Un rapinatore GP 52enne pregiudicato battipagliese è stato arrestato ieri sera dai carabinieri dopo aver effettuato una rapina in una profumeria in via Buozzi a Battipaglia. Il bandito è entrato nella profumeria ed ha minacciato la titolare dell'esercizio commerciale con un coltello chiedendogli il denaro contenuto nel registratore di cazza. Poi ha preso a pugni la donna colpendola al volto e sul corpo ferendola e le ha strappato il coglier d'oro che indossava. Il bandito è fuggito via con la collana d'oro ma poco dopo è stato intercettato dai carabinieri ed è stato arrestato dai militari della compagnia di battipaglia diretti dal capitano Samuele Bileti. La donna ferita è stata soccorsa e accompagnata in ospedale dove le sono state medicate le ferite e se la caverà con una prognosi di pochi giorni. Il malvivente giovedì ha tentato un'altra rapina in un negozio di via Mazzini ed ha minacciato la commessa con un corpo contundente senza mettere a segno il colpo. Al pregiudicato è stato contestato anche uno scippo compiuto in via Roma sempre a Battipaglia lo scorso agosto ai danni di una donna e per questo episodio e la tentata rapina di Giovidì il malvivente è stato denunciato.